Lo scorso mese di dicembre si è definitivamente perso il finanziamento di 18 milioni di euro per la realizzazione dello svincolo autostradale di Mascali. Pochi giorni fa è stato costituito un comitato per riavviare l'iter procedurale e riottenere il finanziamento che rappresenterebbe un grosso volano per l'economia di Mascali di tutto il comprensorio ionico. Viaggio Susinni, ex presidente del Consiglio Comunale di Mascali, ci spiega come nel 2013 lui, assieme al generale dell'arma dei carabinieri in congedo Antonio Pappalardo e l'ex consigliere comunale Giuseppe Susinni, avevano già costituito un comitato cittadino a favore dello svincolo. Oggi, spiega Susinni, c'è poco da soffermarsi sulla costituzione di un nuovo comitato, ma punto focale è la ricerca delle responsabilità della perdita del finanziamento milionario dello svincolo, già finanziato con delibera Cipe nel 2011. Susinni spiega come la regione aveva fidato al CAS la redazione del progetto definitivo, che in deroga alla legge che impediva e vietava le assunzioni, ha affidato all'ingegnere Maurizio Treniti il compito di portare avanti il progetto definitivo, ma che per circa un anno e mezzo non ha portato avanti. Più volte, spiega ancora Susinni, ha sollecitato anche tramite l'onorevole Pippo Ricodra alla realizzazione del progetto definitivo. A chi quindi attribuire la responsabilità della mancata realizzazione dello svincolo autostradale a Mascali? Quindi attribuire la responsabilità della mancata realizzazione dello svincolo autostradale a Mascali? Oggi tornare a costituire comitati, oggi per quanto mi riguarda prenderò l'iniziativa di affidare detta pratica ai miei legali per denunziare questi fatti e per vedere responsabilità ben precise di coloro i quali hanno percepito stipendi da tre anni senza aver fatto nulla per arrivare allo scopo dell'obiettivo che si era prefessato all'assunzione. Quindi mi pare che occorre qui, perché ho l'impressione che non solo su questo tema, ma su tutta una serie di temi che chatteremo uno per uno, che va da questo. Cosa ha fatto l'amministrazione comunale di ieri e di oggi? Cosa hanno fatto per chiedere un diritto che è della città di Mascali e che appartiene a tutta la città? Cosa hanno fatto? Chi hanno sollecitato? Come mai non hanno dato incarico per vedere le responsabilità che ci sono? Allora in questo silenzio la mia iniziativa è di fare di questo qui un manifesto pubblico e di demandare ai miei avvocati di presentare, regolare denunzia per le responsabilità che ci possono essere su questo fatto. Lo voglio fare su questo fatto, lo voglio fare sul piano regolatore, lo voglio fare su tutte quelle cose che hanno penalizzato una città e che fino a oggi nessuno, tutti sanno come stanno le cose, ma ognuno si gira dall'altra parte perché qui ho l'impressione che è finita la democrazia e la libertà di poter parlare. Io intendo invece difendere nella piena libertà come stanno le cose e ad assumersi ognuno le proprie responsabilità. Quindi lei ritiene ancora fattibile questo svincolo tostradale di Mascali? Certo, di fronte a un finanziamento avuto, a un finanziamento di 18 milioni di Euro, a una disponibilità totale, non si capisce qual è il motivo perché a questo punto c'è stata una volontà politica e una volontà anche da parte del CAS di non volere fare nulla per stornare i 18 milioni di Euro e utilizzarli per altri scopi più imminenti e più facili da gestire. E quindi ci sono responsabilità ben precise anche di carattere penale. Io intendo perseguire questa strada perché finiamola con le cose inventate, con situazioni inventate, andiamo ad esaminare gli aspetti perché ho l'impressione che le cose stanno ben diverse da quelle di cui si parla tanto, ma si parla senza cognizione, per non avere invece il coraggio morale di assumersi le proprie responsabilità. Io intendo fare questa battaglia. Negli ultimi anni si parla anche di intercomunale Ionica. Il signor Salvo Marino sta portando avanti questo progetto e che nei giorni scorsi è passato come atto di indirizzo al Consiglio Comunale di Giarre. Lei che ne pensa? Marino è un cittadino che ha individuato questo problema e che in un paese o in un altro paese certamente sarebbe attenzionato. È da anni che fa questa battaglia. Ma è una battaglia che non avrà nessun risultato per il semplice motivo che questa opera interessa i tre comuni. Questi tre comuni, per dare pareri, non indirizzi, atti di indirizzi, ma per deliberare una variante di tal genere, impiegheranno tutti i tre comuni non meno di 10-15 anni. Poi una volta che avrà fra 15 anni queste parere dei tre comuni, perché Mascali non ha un piano regolatore, ha fatto un ufficio del piano, prima di iniziare si sono dimessi. Il riposto sta facendo una modifica al piano regolatore, ma quando ha trattato questo tema ha detto che è una cosa irrealizzabile. Giarre dà atti di indirizzo per togliersi questa fatica del signor Marino e quindi per dare una risposta lo hanno accontentato con un atto di indirizzo che non significa meno del nulla. Non c'è nessun finanziamento, quindi questa qui è un'ennesima iniziativa lodevole da parte del Marino, ma che già il risultato è scontato, che non sarà a fare nulla.